Samuel Peron, scelto come sostituto di Angelo Madonia, si sarebbe infortunato e la sua partecipazione nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 30 novembre sarebbe a rischio. L'insegnante di ballo era stato chiamato per ballare in coppia con Federica Pellegrini. L'esibizione di Federica Pellegrini, prevista per sabato 30 novembre potrebbe essere a rischio. L'account X di Cinque Terai, ha fatto sapere che Samuel Peron, chiamato a sostituire Angelo Madonia, si sarebbe infortunato al ginocchio. Per il momento dalla produzione del dance show condotto da Millie Carlucci non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale, ma sembra che la conduttrice abbia già trovato un altro insegnante da far ballare in coppia con la Divina. Secondo quanto riportato dall'account X Cinque Terai, Samuel Peron potrebbe disertare la puntata di Ballando con le stelle in onda sabato 30 novembre su Rai 1. Nel tweet si legge, Federica Pellegrini potrebbe non ballare con Samuel Peron. Pare che Samuel, chiamato a sostituire Angelo Madonia, si sia fatto male al ginocchio e sarebbe a rischio la sua partecipazione. Nonostante al momento non ci sia alcuna comunicazione ufficiale, pare che Millie abbia già trovato un eventuale terzo maestro da far ballare in coppia con la Divina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.